Coach Dalmason, come valutiamo questa sconfitta nell'ultima partita della regular season? Questa partita abbiamo giocato fino agli ultimi tre minuti alla pari, addirittura andando anche avanti un momento importante della partita contro Taranto che stasera ha chiuso il campionato con una sconfitta quindi bisogna anche sempre considerare. D'altro canto noi non ci siamo purtroppo presentati con la formazione completa, un'ulteriore dimostrazione della qualità, secondo me, della difficoltà della partita i ragazzi hanno comunque dimostrato grande energia, grande voglia di stare in partita, di contrastare con ogni arma Taranto poi alla fine ci siamo dovuti arrendere chiaramente alla completezza del loro roster al fatto di essere arrivate nei minuti finali con giocatrici sicuramente più freschi delle nostre. In prospettiva, come si iniziano invece questi play-off? Il primo obiettivo sarà quello di recuperare al pieno dei giocatrici che stasera non c'erano e dopo, ripeto, affronteremo Priolo sapendo già che sabato sarà una partita molto molto difficile però, ripeto, credo che la squadra abbia dato queste ultime settimane dimostrazioni, tolta la parentesi negativa di Napoli dimostrazioni di essere convinta e motivata. Ecco, prestazioni che forse sono un po' altelenanti potrebbero condizionare i partiti ravvicinate come i play-off? Sicuramente, soprattutto anche eventuali infortuni o situazioni che adesso purtroppo, appunto come giustamente ricordavi la vicinanza delle partite non ti permette di pieni recuperi quindi adesso ci vuole anche un po' una buona sorte credo che la Rayer in questo senso abbia già dato abbondantemente in questo senso speriamo di non avere ulteriori intoppi ci basterebbe, cosa che non è successa stasera, di giocarci almeno con tutte le nostre chance con le giocatrici che ci sono rimaste Comunque si parte con fiducia? Siamo motivati, ripeto, sappiamo che dovremo fare delle battaglie ogni partita però questo non ci spaventa e affronteremo questi play-off sapendo, ripeto, che dovremo giocare al massimo ogni gara e ci proveremo Grazie